Settembre nero in Europa per il mercato dell'auto. L'industria automobilistica mondiale è stata gravemente colpita dalla mancanza di chip, componenti chiave per i veicoli. Mancanza che ha costretto diversi marchi importanti a interrompere temporaneamente la produzione nelle fabbriche. Secondo l'Associazione Europea dei Costruttori di Auto, a settembre la domanda di nuovi veicoli si è ridotta a 718.598 unità, il numero più basso di immatricolazioni per il mese di settembre dal 1995. Le immatricolazioni di auto nuove sono diminuite del 23,1% a settembre 2021 rispetto allo scorso anno. Tutti i principali mercati dell'Unione Europea sono in terreno negativo, meno 32,7% per l'Italia, meno 25,7% per la Germania, meno 20,5% per la Francia e meno 15,7% per la Spagna. Per poter disporre dei microchip, l'industria automobilistica ha dovuto competere anche con altri settori che ne fanno uso e che specialmente durante la pandemia di Covid hanno registrato un incremento della richiesta, come articoli elettronici, tecnologici, monitor extra TV e console di gioco. Questo, unito alla carenza di forniture per la chiusura degli stabilimenti, ha penalizzato il mercato dell'auto.